ciao da michelangelo e benvenuti alla lezione numero 9 del nostro corso di scrittura creativa siamo alla penultima quindi questa volta diciamo che se dovessi dare un titolo alla lezione sarebbe déjà vu perché déjà vu non so se vi ricordate che cosa ho detto durante la prima lezione nella presentazione del corso di scrittura che avrei tenuto scrittura creativa ho sempre detto non significasse nulla perché anche la lista della spesa teoricamente è scrittura creativa perché serve a creare qualcosa cioè farci cucinare farci lavare e è proprio questo il senso di questa lezione la lista della spesa io vorrei che voi prendeste la vostra lista della spesa la prossima che farete o una che avete già perché oggi andate a fare la spesa o perché ci siete già stati e non l'avete gettata comunque una lista della spesa normalissima da cui faremo scrittura creativa déjà vu quindi perché perché bene o male l'abbiamo già fatto nelle lezioni precedenti quando abbiamo descritto due oggetti dentro casa uno ve l'ho suggerito io era una semplice bottiglia d'acqua un altro lo avete scelto voi quindi mi piacerebbe che prendendo quella lista della spesa che avete voi cominciaste a vederla in maniera diversa cominciaste a vedere quella lista della spesa come la lista delle parole che abbiamo usato e che in senso alternato ci sono servite per scrivere un dialogo ci sono servite per scrivere il tema quindi prendere quella lista della spesa e farla diventare un nostro viaggio mentale farla diventare un racconto cosa racconta quella lista della spesa cosa racconta ogni oggetto l'oggetto interagisce interagisce con noi interagiscono tra loro gli oggetti creano una ricetta creano una ricetta magari che non sappiamo fare abbiamo preso la varichina per disinfettare tutto e quella varichina ci fa lacrimare gli occhi però dobbiamo usarla parlerebbero le nostre compere e che cosa direbbero abbiamo scelto quel prodotto rispetto a un altro magari quel prodotto si sente anche in diritto di dire sono meglio dell'altro qui c'era anche un film che non so se avete visto dei prodotti del supermercato che prendono vita andatevelo a vedere che è un film abbastanza folle ma geniale ed ecco io vorrei che in questa lezione che come spiegazione è breve brevissima voi tiraste fuori il meglio dalla lista della spesa tutte le piccolezze che abbiamo imparato in questi esercizi mettetele a frutto per far nascere qualcosa di bello in questa lista della spesa come tempi ci siamo diciamo che alcuni di voi avranno anche una lista di regali da fare perché siamo a dicembre e quindi potete provare anche con la lista dei regali se non vi ricordate qualcosa vi andate a rivedere le lezioni precedenti vi andate a rivedere gli scritti che avete fatto precedentemente e che oramai sono entrati nel vostro modo di pensare gli esercizi quindi usate tutto quello che abbiamo fatto finora per far vivere la lista della spesa che diventa scrittura creativa io vi ringrazio per l'attenzione se la lezione vi è piaciuta lasciate un bel like sarei curioso curiosissimo di leggere che cosa ne esce fuori vi aspetto per l'ultima la decima lezione giovedì prossimo vi auguro buona scrittura e vi saluto ciao da michelangelo gregorio